ok salve a tutti e benvenuti in questo video oggi vedremo come installare la recovery per il core plus che finalmente è uscita allora installiamo odding si può cercare su internet download odding prendiamo il primo sito ufficiale poi io ho la 3.9 è uscita la 3.10 quindi potete scaricate benissimo poi andate sul link che vi metto in descrizione scaricate scaricate la recovery che è questa qua che fa il .tar da questo sito e qua parlano dopo parlano di se c'è una rom da installare con questa recovery e avevano provato con quella dell'Xperia T e credevano funzionasse ma alla fine non funziona quindi dopo aver scaricato la recovery.tar apriamo odding andiamo col telefono in bootloader premendo spegnendolo e premendo il tasto home il tasto power e il tasto su mi sembra o il tasto giù e dopo facciamo continua e sempre dal codo dal bootloader dopo lo clicchiamo al computer lo lo clicchiamo ad odding viene fuori su lid.com apriamo il file pda.tar md5 ok queste e selezioniamo la nostra recovery.tar tar facciamo così e dopo facciamo start facciamo così la mettiamo dentro no no cazzo ah no si e così e dopo facciamo start ok io non lo faccio l'ho già fatto e quando 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 lo riavvierete in recovery ci sarà un punto esclamativo rosso voi dovete premere il tasto power una volta io qui per arrivare alla clockwork mod sarà così la clockwork mod e dopo che merda si non ci interessa le sue robe e così verrà fuori tutto qua bella lì ciao ciao